Foggia Monopoli rinviata a data da destinarsi. Dopo l'istanza prodotta dalla società Biancoverde, corredata dalla documentazione dell'Asle di Bari, che di fatto ha fermato almeno fino al 2 aprile la squadra di Mister Scienza, la Lega Pro ha disposto il rinvio della gara, originariamente in programma per sabato alle ore 20 e 30 allo stadio Pino Zaccheria. Salgono così a tre le partite del Gabbiano da recuperare, mentre quelle del Foggia, che aveva già visto rinviarsi la sfida contro il Palermo in programma nello scorso turno di campionato, sono adesso due. Una decisione inevitabile, viste ancora le tantissime positività a Monopoli, dove si sono negativizzati sei tesserati, ma è risultato positivo all'ultimo ciclo di tamponi un altro calciatore, lasciando così il focolaio ancora in essere. Il Monopoli scenderà in campo adesso mercoledì 7 aprile alle ore 15 contro il Palermo, nel recupero della 32esima gara di campionato, una gara a cui la formazione di Mister Scienza arriverà con una squadra risicata, ma essendoci il numero minimo di 13 giocatori a disposizione, compreso gli infortunati, sarà costretta a disputare. Per il Foggia invece è turno di riposo nel prossimo turno, mentre il 14 c'è in calendario la partita contro la Paganese. Mister Marchionni spera di recuperare i tesserati per arrivare al meglio allo sprint playoff. Visti questi rinvii appare ormai inevitabile lo slittamento della fine del campionato, previsto in origine per il 25 di aprile. La Lega Pro predisporrà tutte le slot per i recuperi e poi stilerà molto probabilmente un nuovo calendario con la fine della regular season a maggio.